Un laboratorio congiunto che vede due momenti, attività di ricerca ed innovazione tra ricercatori del Politecnico e le divisioni e le varie società di A2A per parlare di idrogeno, per parlare di transizione ecologica e energetica, per parlare di economia circolare e poi una grande casa, una grande abitazione, il recupero di due gasometri per fare un centro congiunto di innovazione. Scienza, ricerca, innovazione, tecnologie proprio su quello che abbiamo detto, dai rifiuti all'acqua, dall'energia alle batterie, dall'idrogeno alle energie sostenibili e poi un contenitore, uno spazio dove giovani e meno giovani, ricercatori, professionisti e professori potranno sviluppare attività di ricerca, di innovazione fino al trasferimento tecnologico insieme.